ben ritrovati avete esaurito i bagordi del giorno di natale e di santo stefano spero di sì anche se poi in queste feste si va sempre lunghi c'è sempre un motivo per festeggiare ma in questi giorni ci sono tanti motivi per parlare di calcio e vi prometto un programma molto denso molto pieno per queste feste perché voglio parlarvi di mercato e lo facciamo in questo video voglio anche di calcio giocato e allora vi preannuncio già per stasera un punto sul meraviglioso boxing day della premier league il giorno più bello dell'anno nel football inglese per cui come vi dico sempre iscrivetevi al nostro canale attivate le notifiche per non perdervi nulla oggi pomeriggio come detto parliamo di mercato e vi voglio parlare del mercato della juventus perché a sentir dire nelle ultime settimane si prevedeva un mercato abbastanza morbido da parte della juve con operazioni magari di prospettiva operazioni soprattutto in uscita mangiù chi ci ha salutato ufficialmente ed è andato in catar però quel che bolle nella pentola del club bianconero sembra qualcosa di molto significativo e magari anche per l'immediato diciamo un'operazione ma gigantesca di prospettiva e un'altra invece che potrebbe cambiare in modo anche piuttosto sostanziale le dinamiche soprattutto della mediana di sarri iniziamo con quella che sarebbe un'operazione di prospettiva per l'età dell'obiettivo ma sarebbe secondo me un colpo straordinario perché si parla di holland il super centravanti del salisburgo uno dei teenager più ambiti del momento perché l'esplosione di questo norvegese classe 2000 è stata realmente fragorosa chi come noi sul nostro canale aveva seguito approfonditamente il mondiale under 20 quest'estate ed è sempre una manifestazione che porta nozioni e notizie molto molto interessanti si era già accorto di questo ragazzo perché ha stabilito un record secondo me imbattibile nella storia del calcio ovvero ha segnato nove gol in una partita della fase a gironi appunto del mondiale under 20 contro honduras con la sua norvegia nove gol in una partita forse segnavano 100 anni fa o anche di più credo che per i prossimi 100 difficilmente vedremo ripetere un'impresa del genere e un giocatore che a qualsiasi livello segna nove gol in una partita è chiaramente un giocatore di un altro pianeta rispetto alla categoria al torneo al livello a cui sta giocando infatti parliamo di un giocatore di un altro pianeta rispetto al mondo degli under 20 un giocatore che anche al massimo del livello si è confermato pienamente nei primi mesi di questa stagione l'impatto di holland con la champions league è stato brutale otto gol nelle sue prime sei partite in champions ha segnato in tutte tranne che nell'ultima quella decisiva contro il liverpool però otto gol sono veramente tanti per un ragazzo di 19 anni e estendendo i numeri cominciamo ad avere anche una prima fotografia di quelle che sono le sue caratteristiche perché nella stagione con il salisburgo quindi fra champions league campionato austriaco e coppa d'austria holland ha segnato 28 gol in 22 partite aggiungendo anche 5 assist che sono tanti per una prima punta dei riscontri impareggiabili e andando nello specifico all'interno anche di questi numeri ci sono delle situazioni che lasciano lasciano pensare danno dell'ulteriore gusto perché di questi 28 gol solo 4 sono stati realizzati su rigore per cui 24 reti in 22 partite segnate su azione molto importante cosa ancora più importante e forse sorprendente è che di queste 24 reti quindi tolti i 4 calci di rigore solo 2 sono arrivate di testa e parliamo di un centravanti norvegese alto più di un metro e 90 e dal peso di quasi 90 kg quindi scordiamoci completamente il concetto del numero 9 nordico classico holland ha il fisico della prima punta di sfondamento ma le caratteristiche del centravanti ultramoderno io dico che questo è in assoluto il centravanti del futuro è un mancino ma segna anche di destro soprattutto è un giocatore che all'interno dell'area di rigore è dominante sposta sia in senso letterale difensore che in senso metaforico nella partita a grande killer instinct segna più o meno da tutte le distanze perché andate a vedere i suoi gol di quest'inizio di stagione è pronto per l'appoggio sottoporta è pronto per il tap in segna dalla media distanza ha un buon tiro anche da fuori area soprattutto partecipa molto all'azione un giocatore che è totalmente a proprio agio se si abbassa a dialogare con la mezzala o con il trequartista che propone la palla in verticale riesce a combinare molto bene con il lavoro degli esterni il tutto è 19 anni con queste medie realizzative è un giocatore veramente veramente dalle prospettive gigantesche e la sua situazione contrattuale lo rende l'obiettivo numero uno del momento infatti la juventus deve vincere un po di concorrenza soprattutto da parte del borussia dortmund con 30 milioni si prende holland a gennaio c'è questa clausola appare nel suo contratto per me è un'operazione a costo decisamente contenuto ripeto per le prospettive ma anche per il valore attuale del giocatore oltretutto la juventus può puntare su un appeal che ad esempio il borussia dortmund non ha perché la juventus ha cristiano ronaldo perché la juventus è considerata una delle potenziali vincitrici della champions league quello che mi fa pensare in questo momento è quanto la juventus abbia bisogno di holland oggi nel mercato di gennaio ok questa occasione contrattuale fa sì che sia estremamente allettante la prospettiva di prenderlo subito però io credo che l'operazione giusta sarebbe comprare holland mettere le mani su questo giocatore e lasciarlo per la seconda parte di stagione al salisburgo prestarlo eventualmente ad un'altra squadra che potrebbe garantirgli la possibilità di continuare a giocare in champions perché lo sapete una volta se avevi giocato la champions poi non potevi più farla con un'altra squadra oggi le regole ci dicono che dopo la fase a gironi anche se hai già disputato la competizione con un'altra maglia puoi farlo nella fase ad eliminazione diretta il mio pensiero è che lasciarlo a salisburgo potrebbe essere l'idea giusta comunque il salisburgo è sceso in europa league rimane nel suo ambiente rimane nella sua squadra nel suo gioco non dovrebbe cambiare città avrebbe continuità in questo senso però questo tipo di operazione a livello generale mi sembra la più oculata mentre portarlo subito a torino vorrebbe dire intasare ulteriormente il reparto offensivo è vero che numericamente fuori mangiucic dentro holland però mangiucic era fuori rosa nella prima parte di stagione e già siamo qui a discutere giorno dopo giorno tridente sì tridente noi guain di bala ronaldo insieme sono sostenibili possono giocare devono giocare due su tre se arrivasse un altro top in questo reparto allora i problemi tra virgolette di abbondanza per sarri aumenterebbero per cui io credo che appunto lo ribadisco l'operazione giusta sarebbe mettere le mani ufficialmente definitivamente su holland adesso immediatamente e poi valutare il suo inserimento a partire dall'estate prossima quando comunque qualche discorso lì davanti andrà fatto in casa juve mentre c'è un'altra operazione che pare poter sorgere per l'immediato e questa ha dei contorni molto più efficaci se parliamo di mercato di gennaio puro ed è un'operazione che riguarda il centrocampo e che riguarda un altro giocatore importante della juventus come emre chan che però non è stato inserito in lista champions se l'è presa molto di conseguenza cerca un'uscita per poter avere un protagonismo diverso nella seconda parte di stagione e quel che sembra potersi configurare è un discorso di mercato secondo me piuttosto intrigante con il paris saint germain il paris saint germain ha bisogno di un giocatore come emre chan lo vuole perché l'idea del club di leonardo di tuchel è quella di varare il più possibile nella seconda parte di stagione i fantastici quattro là davanti un'idea molto ambiziosa un'idea che ha già dei sostegni all'interno della rosa perché il paris saint germain ha fatto un ottimo acquisto quest'estate al di là dei problemi fisici che ha avuto prendendo gay e giocatore che dà equilibrio portare un altro mediano nella rosa vorrebbe dire io spero riportare stabilmente marchignos dietro perché è vero che marchignos sta facendo bene lì in mediana però io ho questo pensiero questo pallino per me marchignos e tiago silva dietro sono la coppia da considerare con delle alternative assolutamente valide però vedere stabilmente marchignos dietro e vedere dei centrocampisti veri in mezzo al campo per me per il mio gusto sarebbe preferibile poi ci sarà verrati che è già rientrato nelle ultime partite dai problemi fisici recenti e credo che possa avere anche lui un ruolo primario però mettere un altro elemento dalle caratteristiche anche un po' polivalenti e soprattutto d'equilibrio in mezzo al campo sarebbe l'operazione giusta per il paris saint germain la juventus di contro sembra poter essere interessata aleandro paredes che gioca poco a parigi ha fatto una sola partita titolare in champions league l'ultima dove ci sono state rotazioni significative e soprattutto c'erano delle contingenze appunto non c'era gay e per l'ultimo match verrati è rientrato proprio in quello l'unica partita titolare è stata appunto la sesta del girone a cose già definite il ligan ne ha giocate sette dall'inizio comprese le ultime tre ma sempre per lo stesso motivo non aveva la coperta molto lunga centrocampo tuchel nelle gare del mese di dicembre del 2019 paredes da quando è arrivato a parigi non ha mai trovato uno spazio primario e io a volte mi sono chiesto il perché primo perché è un giocatore che a me piace molto è un giocatore intenso è un giocatore maturo è un giocatore geometrico è un giocatore con quelle visioni e quei tocchi che non si trovano molto spesso in giro oltretutto è un giocatore per il quale ho osservato una crescita una stabilizzazione molto importante in nazionale a partire dalla coppa america di quest'estate scaloni ha trovato il suo equilibrio giocando con paredes come vertice basso di un centrocampo a tre quindi come centro mediano davanti alla difesa lì appunto ho notato anche una sua crescita sul piano dell'interdizione dell'agonismo e poi a far uscire il pallone è uno che ha assolutamente tutte le cose a posto le carte in regola paredes va ragionato all'interno dell'universo juventus proprio per queste sue caratteristiche specifiche la juventus non ha un'alternativa pianic giocatore di regia davanti alla difesa dietro al comparto offensivo giocatore che dia i tempi le distanze e gli spazi e in questo caso appunto come vi dicevo per paredes anche con qualità nell'interdizione la juventus non ce l'ha per cui andrebbe ad essere sicuramente un elemento utile potrebbe alternarsi con pianic potrebbe dare a sarri la possibilità di avere giocatori differenti per le esigenze delle varie partite e magari anche dell'avversario sarebbe sicuramente un tassello che andrebbe a completare a migliorare la rosa nel suo complesso nella sua estensione mi risulta invece un filino più complicato pensare a una convivenza fra paredes e pianic è vero che paredes in queste ultime partite che ha giocato con il pari saint germain giocava fondamentalmente a due in mezzo al campo perché poi appunto c'erano quattro giocatori d'attacco però paredes come mezzala non lo so sarebbe un tornare un filino indietro lui ha trovato questa sua dimensione quando è andato in prestito dalla roma a empoli e fu giampaolo il primo a schierarlo davanti alla difesa avendo a mio modo di vedere un'intuizione strepitosa pensare a pianic lì a paredes come mezzala è un concetto molto interessante e uno come sarri potrebbe pensare a questo tipo di soluzione però è un concetto che andrebbe lavorato sarei molto curioso di vedere questo tipo di situazione nel centrocampo della juventus però sicuramente non è la situazione più immediata e la situazione ideale però io sono dell'idea che quando sei un club come la juve che vuole vincere tutto che ha preso un allenatore come maurizio sarri che ha bisogno di aumentare dei livelli dopo la prima parte di stagione prendere un giocatore giovane ma già svezzato soprattutto un giocatore di qualità comprovata è sempre una buona idea questi dunque sono gli scenari che ad oggi si stanno configurando per il mercato della juve scenari molto 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 interessanti continueremo a parlarne come vi dicevo però stasera torniamo già a parlare di calcio giocato perché nel tardo pomeriggio direi attorno alle 20 ho intenzione di proporvi un video sui temi del boxing day su quello che è successo ieri nel corso la giornata in premier league l'ennesimo segnale devastante da parte del liverpool il debutto di ancelotti il debutto di arteta la vittoria di maurigno il messaggio del manchester in altre tutte cose di cui parleremo stasera domani torniamo a parlare di mercato domani parliamo del mercato dell'inter per cui vi ricordo iscrivetevi attivate le notifiche e ci sentiamo prestissimo